Ciao a tutti amici e benvenuti alla decima puntata della seconda stagione del mio programma musicale come vi avevo già anticipato in questa puntata ci saranno un sacco di nuovi video quindi andiamo subito a scoprirli alla posizione numero 15 ritroviamo Hunter Eyes che è già stato nel mio programma l'anno scorso quindi è bellissimo ritrovarlo con un nuovo singolo poi in uscita ci sono Lutz e i Toko Paraboss con un taglio di video diverso così potrete scoprire altre parti di questi bellissimi video con bellissime canzoni andiamo subito a vedere questi primi video a voi all the fellas I guess you gotta try another day Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501